Una donazione da parte di associazione dell'Onorevole D'Alfonso. Per che cosa verrà utilizzata questa vettura e qual è il progetto? È una bella donazione e tra l'altro è anche un modo per poter sentire ancora vicino le necessità della nostra letto manoppello. È un progetto che va ben oltre le nostre mura, è una macchina che si prospetta già per l'intuizione che stiamo avendo come Comuni Città della Maiella, l'unione di comuni che ci stiamo prospettando a istituzionalizzare a breve tra i comuni qui della Val Pescara. È una macchina che si mette anche a servizio della comunità stessa, quindi sarà una macchina che potrà anche in un qualche modo sopperire a delle mancanze, delle necessità di alcune famiglie bisognose, ci attiveremo affinché questa macchina serva per i servizi istituzionali e comunali, insomma un qualche cosa che si aggiunge al patrimonio della nostra amministrazione e del nostro Comune di Lettonoppello.